A Nangrigento, nella Valle dei Templi, al Teatro del Tempio di Giunone, il prossimo 26 luglio, mercoledì alle ore 21, sarà in escena l'Empedocle di Olderlin. Promosso dall'Empeparco Valle dei Templi, diretto da Giuseppe Parello, la rappresentazione teatrale ad opera dell'Accademia di Arti e Spettacolo Le Muse, con la direzione artistica di Claudia Rizzo e la regia di Salvatore Curabba. Ascoltiamo la stessa Claudia Rizzo. A Nangrigento, nella Valle dei Templi, il prossimo 26 luglio, mercoledì al Teatro del Tempio di Giunone, l'Empedocle di Olderlin, a cura dell'Accademia di Arti e Spettacolo, Le Muse. Claudia Rizzo. Sì, vi aspettiamo tutti il 26 luglio, è un mercoledì, per Empedocle di Olderlin. È un'opera che è stata promossa dall'Empeparco archeologico Valle dei Templi di Agrigento e la direzione artistica è mia, quindi, insomma, delle Muse. Ho il piacere e l'onoro di avere un cast di attori molto esperienti e agrigentini, come Giovanni Moscato, Totò Curabba, che ha curato anche l'adattamento scenico, Pippo Crapanzano, Franco Sodano di Edio Oscuri, quindi un cast davvero importante. Ci sono anche degli attori, alcuni degli allievi più promettenti delle Muse e proporremo proprio l'Empedocle di Olderlin, quindi il testo scritto dal drammaturgo tedesco Olderlin, quindi è un dramma, diciamo, un dramma poetico. A fare da contrapunto ai versi di Olderlin sono le scenografie in mapping 3D, quindi le scenografie multimediali, quindi un'opera sicuramente unica nel suo genere. Le scenografie in mapping 3D, la recitazione, quindi i versi di Olderlin, ma anche le coreografie, che rappresentano i quattro elementi, fuoco, acqua, terra, aria, i quattro elementi della filosofia di Empedocle. Empedocle è un personaggio molto affascinante, un personaggio che ha in sé sia le contraddizioni dell'antica Akragas, ma anche la forza, la grandezza, l'aspirazione verso gli ideali di bellezza. Quale migliore location, se non quella della valle dei templi, della bellezza eterna dei templi, per rappresentare questo personaggio, come quello del filosofo Empedocle. Noi vi aspettiamo, sarà sicuramente una serata magica, fatta di teatro, di recitazione, di musica, e la suggestione della valle dei templi farà il resto. Quindi vi aspettiamo mercoledì 26 luglio, valle dei templi.